Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Napolis 1936 per prima cosa iscriviti al canale che è gratis e seconda cosa se hai aperto il video vuoi sapere dove vedere Visla Cracovia Napoli te lo dico subito allora Visla Cracovia Napoli sarà visibile in pay per view al costo di 10 euro per i clienti Sky quindi se non avete Sky non è possibile vedere la partita in tempo reale quindi la partita va in pay per view esiste però un altro modo per vedere la partita diciamo che è un modo un pochino free diciamo così vi lascio il link in descrizione di questa applicazione è valida solo per Android ragazzi chi ha iOS, iPhone mi dispiace ma non conosco nessuna app per voi per farvi vedere la partita di oggi questa sera dalle ore 18 detto questo il link come detto ve lo lascio in descrizione e ragazzi miei buona partita ah c'è da dire una cosa questi sono polacchi il campionato da loro è già iniziato quindi molto probabilmente vedremo una squadra più motivata che sulle gambe sta meglio giocherà un calcio diverso dal Bayern Monaco dalla Provercelli e da altre squadre che abbiamo già affrontato perché giustamente il campionato da loro è già iniziato e quindi hanno più minutaggio nelle gambe dovrebbero correre di più ora poi non sappiamo se è vero dobbiamo vedere Osimena mi sembra che non ci sia perché lo fa riposare spalletti ora non vorrei dire una cavolata comunque detto questo vi ricordo di lasciare il link in descrizione quindi ragazzi iscrivetevi al canale perché se vi iscrivete al canale io vi porto sempre video bellini quindi state tranquilli comunque detto questo siamo quasi a 2000 iscritti abbiamo passato 1800 ampiamente abbiamo passato 1800 iscritti sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926 link in descrizione mi raccomando